salve a tutti bentornati su polvere fumetti e bentornati un nuovo video parliamo di fumetti piuttosto interessanti per me fumetti molto molto più che interessanti perché oggi ho deciso di raccontarvi un po la storia di questo fumetto meglio la storia di come io mi sono avvicinato di come mi sono trovato a leggere questo questo fumetto è stato il primo vero fumetto che io praticamente abbia mai comprato è stata poi la prima serie che ho cominciato a seguire proprio a recuperare con un certo interesse con una certa anche cadenza ci sono tutta una serie di storie dietro una serie di aneddoti quindi cercherò di essere abbastanza circonciso sempre per citare il grande eroe della televisione proprio come yugioh che è il fumetto di cui voglio parlare oggi veniva chiamato proprio nella sua nella sua incarnazione fumettistica dei tempi che furono cioè il sottotitolo era proprio yugioh l'eroe della tv un po come era per one piece con il sottotitolo all'arrembaggio sono abbastanza sicuro che anche naruto avesse una specie di sottotitolo che richiamasse proprio alla serie animata che andava in onda su su italia 1 e voi appunto prendete questo bambino di 9 anni che dopo dragon ball non aspetta altro che vedere il pomeriggio yugioh vedere essere rimanere avviluppato in questo mondo di personaggi stravaganti di mostri di carte magie finché poi scoprì anche dell'esistenza del fumetto c'è un episodio in particolare legato proprio a come sono arrivato al mio primo numero di yugioh al numero 3 della della serie mio padre per per questioni lavorative si ritrovava a viaggiare molto e anche molto lontano io ricordo che lo accompagniamo io mia madre mia sorella in aeroporto e disperati perché sarebbe stato via praticamente per quasi un mese quindi immaginate quale possa essere il sentimento di un bambino appunto di pochi anni di sapere che non vedrà il padre per un intero mese tutti quanti disperati tutti quanti in lacrime tant'è che mio padre pensò di come dire lenire un po questa sofferenza mia e di mia sorella facendoci dei regalini in aeroporto a mia sorella regalò uno di quei pupazzetti che andavano un sacco negli anni negli anni 90 primi 2000 delle varie squadre di calcio quei pupazzetti gli orsacchiotti che suonano i tamburi una cosa del genere invece a me non trovò fondamentalmente niente mi diede 5 euro e mi disse il giorno dopo vivevo in un altro appartamento vivevo davanti proprio un edicolo e mi disse il giorno dopo vai in edicola domani ti cerchi quello che vuoi e te lo compri e quella è stata per me una enorme sliding door perché trovandomi davanti a questa edicola una cosa che purtroppo ormai sta un po scomparendo nel nostro paese mi sono sempre chiesto un po ma se avessi comprato altro se avessi comprato un pacchetto di figurine dei calciatori non è che quest'ora sarei anch'io un grande fan del del calcio ma se avessi comprato un numero a caso di quattro ruote non è che oggi sarei un pilota di rally ma se mi fossi comprato un numero di cucina moderna non sarei oggi un moderno chef tony e alla fine la mia scelta ricadde proprio perché ero già abbastanza infoiato con il cartone animato e con il gioco di carte su quel numero 3 di yugioh che penso di aver letteralmente consumato che non è non fu soltanto il mio primo fumetto ma fu anche il mio primo e vero proprio manga a tutti gli effetti quindi immaginate anche la l'abitudine di un bambino di leggere molti libri a trovarsi a leggere invece un libro che si legge fondamentalmente al contrario cominciando a leggere fondamentalmente dalle ultime pagine ecco mi ritrovavo questo personaggio che veniva brutalmente preso a cazzotti da uno degli amici del nostro protagonista del nostro yugi e girando la pagina successiva mi sono ritrovato davanti allo stesso personaggio che tranquillamente si stava fumando una sigaretta e mi sono detto ma davvero cosa sta succedendo cosa come si legge questa cosa e all'epoca in fondo al volume c'erano proprio queste queste indicazioni insomma proprio per aiutare chi si chi approdava per la prima volta al mondo del fumetto giapponese a appunto a seguire un senso di lettura e anche il colì fu abbastanza strano fu abbastanza complicato saltare da una vignetta all'altra da capire un po come come funzionava un'altra cosa che mi scioccò molto era vedere come non solo alcune parti del fumetto non erano state totalmente rappresentate nella serie animata soprattutto proprio i primi numeri raccolti in in questo in questo primo volume non erano presenti nella serie animata o meglio nella serie animata arrivata in italia perché si trattava di un primo arco narrativo in cui fondamentalmente a un certo punto viene presentato duel monsters il gioco di carte a cui anche i nostri protagonisti giocano ma la gran parte delle storie sono tutte vicissitudini scolastiche personali amorose in cui si ritrovano appunto i vari protagonisti che hanno a che fare però un altro tipo di gioco un altro tipo di enigma alle volte anche dannatamente sadico vi vado andatevi a comprare il fumetto andatevi a leggere il capitolo del paio di scarpe e dello scorpione che questa fu una di quelle cose che anche lì mi mi folgorò mi dissi ma questo non è il fumetto tratto dalla da cui è tratta la serie animata rimasi pesantemente scioccato invece poi mi appassionai tantissimo perché ci cicciano dentro anche altri giochi come i tamagotchi i modellini montabili dei dei personaggi dei dei fumetti del cinema c'è un personaggio che assomiglia dannatamente a un un eroe come come spawn giochi tradizionali giochi basati magari su tarocchi sulle carte cinesi insomma ce n'è veramente di cotto e di crude e anche andando avanti nella serie per esempio il gioco di dungeons nice monster che fa un po' intermezzo fra due delle saghe principali della storia a un certo punto ha avuto talmente tanto successo da vivere di vita propria da far progettare mi pare dalla konami un vero e proprio gioco per il game boy dove si giocava dungeons nice monster ed era bellissimo mi ricordo che mi cercavo i pdf dei dadi da poter stampare da poter colorare per poterci giocare in qualche modo perché mi folgorarono queste cose mi mi mandarono in pappo al cervello e ripeto tutto questo poi mi ha portato ad avvicinarmi ad altri fumetti ad altre serie arrivò dopo dai la grande avventura naruto e poi scoprire le fumetterie quindi dall'epo da allora il mio portafogli non fa altro che che male dirmi insomma credo proprio che yugioh possa essere una una serie molto molto carina da approcciare da da iniziare un po' anche da scoprire se siete amanti del gioco di carta anche lì vi trovereste di fronte a dei momenti veramente piuttosto sbalestranti si gioca totalmente con delle regole differenti rispetto alla versione classica e conosciuta appunto di yugioh di duel monsters insomma e ripeto è per me una grandissima un po' emozione fare un po' un viaggio indietro nel tempo ripercorrere appunto una certa fase della mia infanzia della mia adolescenza e ci sarebbero tantissimi altri episodi legati sempre a questa serie sempre questo a questo fumetto ricordo che coloravo i personaggi i mostri delle carte nelle loro prime apparizioni quando saltavano fuori dalla carta per la prima volta io mi mettevo a colorarle mi ero innamorato del tesco evocato insomma è veramente una roba importantissima per me a livello sia sentimentale a livello poi proprio come mia esperienza di di lettore per cui vi dico vi inviterei soprattutto chi magari si è approcciato da poco al mondo dei manga a un po' conoscere questo questo piccolo gioiellino ripeto purtroppo kazuki takashi è proprio scomparso nel corso di questi giorni tra l'altro in maniera anche un po' viene da dire quasi grottesca in modo un po' misterioso proprio come misterioso è il mondo dei giochi degli indovinelli insomma del suo fumetto da cui poi appunto è nato un vero e proprio brand un vero e proprio fenomeno di massa culturale veramente ci sarà un motivo se yugioh è ancora uno dei giochi più apprezzati più seguiti e che continua a raccogliere nuovi nuovi giocatori appunto in in tutto il mondo per cui ripeto io vi consiglierai di scoprirlo un po' perché potrebbe essere qualcosa soprattutto in questi primi numeri che che non vi aspettereste e ripeto secondo me potrebbe essere una un'ottima perla da da riscoprire in questo periodo se vi andasse di farlo vi lascio qua in descrizione il link per poterlo recuperare su amazon potete già preordinare anche il secondo il secondo volume e fatemi un po' sapere come come vi siete trovati magari fatemi sapere anche qual è stato il vostro primo fumetto il vostro primo manga insomma raccontatemelo un po' qua sotto nei nei commenti in descrizione ci sono sempre anche altri link per altri fumetti che vi consiglio sempre un po' di recuperare e insieme a questi link ci sono anche quelli per i miei social come sempre facebook e instagram devo ricordarmi praticamente di toglierlo facebook perché praticamente non lo uso più instagram che insomma è il social che sto cercando di utilizzare un pochino più spesso io vi ringrazio vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao bellissima